cari figli vi invito di nuovo maternamente non siate duri di cuore non chiudete gli occhi sugli ammonimenti che per amore il padre celeste vi manda voi lo amate al di sopra di tutto vi pentite che spesso dimenticate che il padre celeste per il suo grande amore ha mandato suo figlio affinché con la croce ci redimesse vi pentite che ancora non accogliete il messaggio figli miei non opponetevi all'amore di mio figlio non opponetevi alla speranza e alla pace con la vostra preghiera il vostro digiuno mio figlio con la sua croce scaccerà la tenebra che desidera circondarvi e impadronirsi di voi egli vi darà la forza per una nuova vita vivendo la secondo mio figlio sarete benedizione e speranza per tutti quei peccatori che vagano nella tenebra del peccato figli miei vegliate io come madre veglio con voi prego e veglio particolarmente su coloro che mio figlio ha chiamato affinché siano per voi portatori di luce e portatori di speranza per i vostri pastori vi ringrazio grazie